L'ufficio di quest'anno è proprio quella di avere 11 combattenti, come vedete quest'aquila è un'aquila da combattimento, ho voluto insieme all'artista Loreti lasciarla qui, proprio all'ingresso del tunnel degli spogliatoi, così tutti i calciatori avranno modo di vedere e di osservare qual è lo spirito con il quale la società vuole affrontare questa annata, che è un'annata come tutte le annate, particolare, difficile perché ci sono squadre e piazze molto importanti, quindi oltre alla qualità tecnica i giocatori devono avere un forte tempo, un forte carattere, quale può essere rappresentato da un'aquila che spicchi il volo.